Vediamo oggi una libreria si chiama Arduino Timer è una libreria che serve per gestire e creare dei timer o meglio un timer è un contenitore con all'interno tanti task tanti processi questo è come è stata impostata questa libreria molto utile per semplificare un po' le cose e permette di gestire del codice che viene eseguito all'occorrenza in modo ripetuto o a precise scadenze la libreria ha un utilizzo semplice immediato però si può andare in profondità complicando le cose e qui sta a voi e dipende anche dall'utilizzo che volete farne se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo non ti costa nulla mi dà una mano a crescere e ad andare avanti grazie mille iniziamo subito vediamo una libreria interessante per Arduino Arduino Timer so che molti di voi la usano per esempio il mio amico Luis Bassi allora questa libreria vi semplifica un po' la vita i timer software noi li creiamo di solito con le variabili unsigned, millis eccetera però se volete semplificarvi la vita potete installare questa libreria come si fa? la potete scaricare dall'indirizzo che trovate qui e poi in descrizione al video quindi cliccando sul pulsante verde fate download zip potete installarla qua o altrimenti tramite Arduino che adesso è quello che faremo noi diamo un'occhiata alla pagina principale della libreria dove troviamo delle indicazioni intanto viene inclusa questa libreria vi permette di creare dei timer questi timer possono essere uno o più tutti quelli che vi servono addirittura vedete qua date un numero ovviamente è meglio non esagerare perché poi occupano memoria e risorse quindi i passi sono abbastanza semplici bisogna mettere sempre all'interno del loop questo timer tick quindi se creo un timer che si chiama timer dovrò poi aggiornarlo con questo tick messo nel loop e poi verranno chiamate delle funzioni quando il timer arriva a termine abbiamo vari tipi di timer timer che si ripetono timer che scattano una volta sola timer che scattano in un certo preciso momento quindi vediamo qua degli esempi qui abbiamo dei timer che scattano dopo un certo numero di millisecondi oppure che scattano a un certo tempo predefinito ovviamente sempre rispetto ad arduino espresso in millis oppure che scattano ogni tot intervallo specificato quindi se mettete 1000 ogni 1000 secondi scattano potete cancellare un task in esecuzione quindi bloccarlo prima che scatti fermarli tutti oppure fare varie operazioni poi potete dare un'occhiata vediamo l'utilizzo semplice apriamo arduino trovare la libreria all'interno dell'abri manager non è facilissimo conviene usare il nome di chi l'ha scritta si chiama contraras michael se non sbaglio eccolo qui arduino timer by michael contraras la installiamo una volta installata troviamo vari esempi proviamo a scrivere noi un pezzo di codice per il nostro esempio faremo veramente una cosa semplicissima disegno qua lo schema come nostra usanza quindi prendiamo un arduino a scelta qui sul tavolo ho un r4 ma potete usare un qualsiasi arduino collegheremo un led preso dal sensor kit di arduino quindi il led colore verde sul pin 4 se volete utilizzare un componente vero e non i componenti tipo groove basta mettere sul pin 4 resistore e un led a piacere resistore di valore compreso tra 220 e massimo 300 390 ohm questo è l'hardware necessario poi useremo il serial monitor principalmente quindi torniamo a noi andiamo a includere dentro sketch include library vediamo se è stata installata la nostra arduino timer eccola qua arduino timer e la includiamo quindi prima cosa da fare per creare un timer metteremo qua timer allora attenzione il tipo di variabile possiamo usare auto che è una cosa un po' variegolare in questo modo sarà il compilatore a trovare il tipo di variabile più adatto per creare il nostro timer quindi ce lo tiene un po' nascosto e poi usiamo il creatore timer underscore create underscore default crea un timer con le impostazioni di default quindi standard questo è il modo più semplice per creare il nostro timer poi lo andremo anche a configurare vi ricordo di mettere nel loop timer punto tick questo è fondamentale altrimenti non funziona questo è quello che lo porta avanti lo fa girare lo fa funzionare usiamo questo timer per far lampeggiare un led quindi nel setup intanto prepariamo serial punto begin 115 e 2 se volete scriviamo un messaggio facciamo serial punto print ln mettiamo arduino timer quindi sappiamo che è proprio il nostro sketch il timer va configurato anzi dobbiamo pilotare un led quindi facciamo pin mode il pin è 4 lo mettiamo come output in questo modo possiamo pilotare il nostro led e farlo accendere e spegnere attenzione qua dobbiamo collegare il timer alla funzione di lì come deve comportarsi se vogliamo farlo ripetere faremo timer punto every every vuol dire ogni tot farai qualcosa cosa fai chiami la funzione che adesso ti diciamo prima gli diamo la durata quindi ogni secondo quindi ogni mille e poi la funzione non esiste ancora facciamo chiamiamola blink dove vado a creare questa funzione adesso la definiamo possiamo metterci qui sotto e creiamo la nostra funzione blink allora la funzione deve avere una forma particolare deve ritornare un boolean abbiamo detto la chiamiamo blink riceve un parametro quindi void asterisco deve essere definita in questo modo qua e poi possiamo mettere all'interno il codice qui facciamo digital write pin 4 virgola faccio il contrario di quello che trovo sulla lettura quindi facciamo digital read del pin 4 quindi leggo qualcosa sul pin 4 uso il pin stesso come memoria ok quindi imposto il pin 4 con quello che trovo con il contrario di quello che trovo leggendo il pin stesso scusate il giro di parole che era per risparmiare una variabile possiamo anche stampare un messaggio dentro il nostro blink se volete println mettiamo e facciamo un blink e poi dobbiamo fare un return di true questo serve per farlo ripetere ora questa funzione l'abbiamo messa sotto se volete buona cosa dichiararla qui anche all'inizio in modo che il compilatore sappia che c'è questa funzione ho fatto qualche errore quindi correggiamo questo output ok tutto a posto modifichiamo la scheda stiamo usando un r4 minima sulla com 3 diamo ok proviamo a caricare qui vediamo la nostro r4 con la shield groove e sopra il led collegato al termine del caricamento vedete qua il led che lampeggia e nel serial monitor vedremo stampare blink 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 aggiungiamo un altro timer questa volta lo creiamo in questo modo quindi metto proprio la variabile faccio timer con la t maiuscola e qui tra maggiore e minore posso andare a dire quanti task contiene quindi un timer può contenere al suo interno più compiti più processi che girano per esempio ne voglio 10 metto 10 quindi posso avere fino a 10 conteggi indipendenti posso dire qual è la definizione dico in millis quindi la ragioniamo in millisecondi altrimenti abbiamo in micro e poi gli diamo un nome lo chiamiamo timer 2 le due definizioni sono equivalenti quella questa qua più semplice più rapida questa qui vi da un maggior controllo il timer 2 funziona esattamente come il timer che abbiamo creato prima ricordatevi sempre qua di mettere timer 2 punto tick per tenerlo aggiornato e farlo evolvere che cosa me ne faccio dei task i task entrano in gioco nel momento in cui vado a definire il comportamento quindi questo che l'abbiamo fatto per il timer 1 se io per il timer 2 volessi aggiungere un task farò così timer 2 faccio punto diciamogli in in modo che dopo due secondi chiami una funzione la chiamiamo funzione message questa funzione può anche avere un parametro allora se la chiamo semplicemente così no niente facciamo così stop chiamerà questa funzione message la funzione quindi questa chiamata mi permette di avere un riferimento al task se volessi poter accedere al task farò auto task uguale task è il nome potrò chiamarlo anche t la funzione message non esiste nel caso la definiamo qua facciamo message esattamente come abbiamo fatto blink e la copiamo ctrl c chiamiamo la funzione message semplicemente questa stamperà un qualcosa hello molto esclamativo il fatto di avere riferimento al task mi permette poi di fare una roba del genere timer 2 punto faccio cancel per esempio e devo dire che task voglio cancellare quindi diciamo fammi fuori il task task ok lo lascio commentato vi resta come esempio proviamo a caricare vediamo cosa succede apriamo il serial monitor resettando vedete che dopo due blink esce anche l'hello e poi non torna più volendo creare delle funzioni qui passo anche dei parametri posso farlo ma dobbiamo andare a modificare qua quindi proviamo a creare un terzo timer chiamiamolo come timer 3 il timer è un contenitore per i task alla fine noi usiamo i task allora mettiamo che qua facciamo limitato mettiamo che ha solo tre task anche quello di prima tanto poi ne usiamo uno solo ha la stessa suddivisione in millis però se vogliamo passargli un parametro per esempio una stringa faremo così gli dico qui quale sarà l'argomento passato alla funzione quindi un puntatore ha una stringa di carattere cost char asterisco creiamo una nuova funzione bur message 2 questa volta a questa funzione avrà un avrà un parametro che sarà di tipo cost char asterisco e lo chiamiamo m che sta per messaggio copiamo il codice copiamo la definizione ci mettiamo in fondo la incolliamo qui mettiamo le graffe e potendo passare un parametro copia incolla del serial print lo incolliamo qua facciamo print l o mettiamo uno spazio poi a capo print l n e mettiamo il messaggio che ci hanno passato come facciamo a chiamarla allora intanto qua mettiamo timer 3 punto tic che è fondamentale per farlo funzionare e poi qui per aggiungere un task al timer 3 possiamo fare non mi tengo riferimento quindi faremo timer 3 facciamo in 4 facciamo un messaggio 2 la seconda funzione e quindi passiamo il parametro mettiamo arduino punto schermatica il parametro può far comodo se devo dare qualche informazione al task che verrà eseguito carichiamo compiliamo vediamo cosa succede premo il reset sulla scheda ed ecco qua che escono tutte le scritte come avete visto si può usare in modo semplice immediato oppure andare un po in dettaglio per usare delle funzioni più complicate nel caso quello che vi serva sia qualcosa in più ne approfitto per ringraziare tutti gli abbonati al canale che mi aiutano mi sostengono anche in questi mesi un po' burrascosi però pian piano sto sistemando prima o poi torniamo ad essere in linea bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao 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 ciao